Mi scuso per la voce ma sono influenzato attraverso Elisa e Gabriel Rossi, i fratelli dalla luce. A voi cari inviamo soffi di realtà in modo tale che possiate avere ristoro in questi attimi di immersione nella materia. A piccoli passi raffinate i vostri sensi verso la comprensione dell'amore assoluto. Quando vi parliamo di amore non è il termine corretto, è riduttivo di per sé. I sentimenti nella materia sono spesso le emozioni di vincoli familiari, la conseguenza naturale di un profondo legame parentale o di amicizia. Ma cari, questi sono i preludi dell'immensa esistenza maturata nelle varie incarnazioni della nostra e vostra identità spirituale. Cari, il vostro germe maturo è attratto inconsapevolmente dalle fonti rigeneranti, dove il sentire ancestrale, lasciato il denso, prende forma predominante e vi aiuta a capire la vostra vera essenza, occultata finora dalla materia pesante. All'abbandono del veicolo fisico tutto diventerà più chiaro ed essenziale. La coscienza, rientrando nella sua vera forma, si riapproprierà del discernimento oscurato fino a pochi attimi prima per il necessario assorbimento evolutivo. Lo stupore di esistere ancora lascerà spazio alla legge universale di attrazione e accomodamento nelle dimensioni compatibili con la vostra coscienza. Vi potrete congiungere ai vostri cari all'interno di un sentire più lucido e libero, progredendo insieme nella dispersione delle energie non positive, assimilate. Per alcune coscienze risulterà un fenomeno spontaneo abbandonare i lacci materiali per potersi spingere alla ricerca di estensioni sempre più raffinate e luminose. Fratelli, l'amore della luce è un sentire di pace e benessere che si amplifica sempre più con un andamento esponenziale senza confini, se lo ricercate sia nell'ora del trapasso sia nei momenti successivi al trapasso. Siate sempre più partecipi dell'immenso movimento universale connesso con l'armonia assoluta. Il fine di ogni coscienza è rientrare in totale libertà nel perpetuo nucleo creatore.